Due giorni per insegnare bambini di età compresa tra i 6 e 9 anni importanti norme di sicurezza stradale, ma anche valori dello sport, e conoscere da vicino grandi piloti. Tutto questo grazie a Karting in Piazza, promosso dall'ACI, che quest'anno ha assegnato all'Automobile Club Lecce una delle nove tappe italiane di questo evento. E così Piazza Mazzini si è trasformata in uno spazio dove tanti piccoli studenti di diversi istituti leccesi hanno prima fatto lezioni teoriche di sicurezza e poi la parte pratica su un percorso protetto guidando un vero Kart. Crediamo fortemente che la formazione bisogna partire dai più giovani, bisogna cercare di inculcare quelle che sono le nozioni principali in maniera tale che poi possano applicarle in un futuro. Dobbiamo parlare di sicurezza stradale già dalle scuole elementari, questo è l'obiettivo, con concetti semplici ma ovviamente che devono rimanere impressi nella mente dei ragazzi. Bisogna fargli passare principalmente due messaggi fondamentali, l'uso della cintura, l'uso del casco e del caschetto, che in Italia non è obbligatorio, però fargli capire che la vita è una sola e quindi la devono proteggere. Il rispetto delle norme, del codice della strada direi che è di fondamentale importanza, quindi iniziare da bambini di questa età è un valore aggiunto. Coinvolti in questa iniziativa anche diversi campioni di kart e automobilismo pugliesi, tra i presenti il 18enne Elisio Donno, driver protagonista nel Ferrari Challenge 2023. La sicurezza è prima di tutto, ormai siamo molto protetti nel mondo delle corse, però una cosa è la pista e una cosa è la strada.